La mostra parte con la pittura francese della prima area del XIX secolo, quindi addirittura con le opere di Ingres e di Delacroix, perché vuole mostrare, vuole indicare non soltanto i due decenni centrali dell'impressionismo, ma vuole anche indicare da che cosa l'impressionismo sia partito e verso dove sia andato. Per questo motivo la mostra si tende dal 1804, il primo quadro di Ingres, fino al 1918, un grande salice piangente di Claude Monet che chiude il percorso espositivo. La mostra è suddivisa in sei sezioni di carattere tematico, si parte dalla prima dedicata alla storia all'interno della pittura francese dell'Ottocento, della pittura di figura e di ritratto, dunque partendo da Ingres per arrivare fino a Gauguin e a Van Gogh, quindi secondo il senso e il segno dell'antinaturalismo, attraversando alcune delle figure centrali e cardine dell'intero impressionismo, come da principio Courbet come anticipatore, ma poi soprattutto Manet, Degas e Renoir. La seconda sezione invece è dedicata alle figure en plein air, quindi la grande novità impressionista, la volontà da parte di questi straordinari autori di collocare le figure sull'erba di un prato, all'interno di un giardino e quindi il rapporto con la quotidianità, capolavori di Renoir, di Pissarro, di Monet ovviamente o le spiagge di Boudin, il maestro di Monet, fino a dei quadri straordinari dipinti da Vincent van Gogh in Provenza, con delle figure sotto al grande cielo libero. Poi la terza sezione, più piccola, più breve nel numero delle opere, è dedicata alla natura morta, la storia importante anche in questo caso, numericamente inferiore certamente, ma con dipinti di Manet, di Monet, di Van Gogh, i suoi vasi di fiori meravigliosi, fino ovviamente al pittore che più di ogni altro, Cézanne, ha lavorato su questo tema, quello della natura morta. La quarta sezione della mostra è una sorta di mostra nella mostra, oltre 50 dipinti, soprattutto anche legati al rapporto con le stampe giapponesi, dall'onda celeberrima di Hokusai, fino ai paesaggi anche all'interno delle città, ed è dunque un percorso che si tende dalle prime opere di Camille Corot fino al tempo più pieno dell'impressionismo, dunque il tempo dei villaggi impressionisti a nord di Parigi, lungo il corso della Senna, da Pissarro a Sisley fino a Cézanne e ovviamente Claude Monet. E con Claude Monet si entra nella quinta e penultima sezione di questa mostra, quella dedicata alla crisi del plein air, quindi soprattutto le cosiddette campagne di pittura in Normandia nel 1882 e nel 1897, nelle quali Monet testimonia è una cosa molto particolare. Non basta più dipingere sul motivo con il cavalletto in mezzo alla natura, ma si può concludere il quadro anche nello studio, un approfondimento che avviene all'interno dell'atelier. Per chiudere con la sesta e ultima sezione, quella dedicata agli anni finali di Monet e di Cézanne. Cézanne che anticipa ovviamente il cubismo, l'attività di Picasso e Monet che anticipa, chiudendo questo lunghissimo percorso in 140 opere, anticipa la grande stagione dell'informale della strazione americana a metà del XX secolo.